L'assessore provinciale al turismo, il direttore amministrativo dell'agenzia Turismo FWG, il direttore generale della Trieste Trasporti hanno siglato a Palazzo Galatti la nuova convenzione, o meglio il rinnovo della convenzione ai trasporti della provincia di Trieste nel circuito della FWG Card, in virtù della quale i possessori della carta potranno fruire anche dei trasporti pubblici terrestri nella provincia di Trieste. Per il secondo anno consecutivo abbiamo stabilito di ampliare il pacchetto di servizi a disposizione dei turisti a retto Zolia, che potranno così usufruire anche dei mezzi pubblici terrestri a fronte di una minima maggiorazione del prezzo. La FWG Card consente attualmente l'accesso gratuito in tutto il territorio regionale, ai principali musei e ai siti storici e la disponibilità di partecipare, le visite guidate o noleggiare le audioguide multilingue. Prevede inoltre significativi sconti per l'ingresso ai parchi tematici, l'acquisto dei servizi balneare e l'accesso illimitato a tutti i servizi della rete di trasporti terrestri provinciali gestiti da Trieste Trasporti. Viene riconfermato un servizio di livello e di valore per il turista, che gli permette una migliore frazione del territorio e della città, ha fatto sapere Edison Mariva, direttore generale di turismo FWG. Nuovi servizi sono entrati inoltre nell'offerta integrata della FWG Card e sono inclusi da quest'anno anche un viaggio andata di torno da Grado a Trieste e viceversa con la motonave del Fino Verde fino al 22 settembre. Si potrà visitare poi la mostra allestita a Villa Manina, la card attualmente in vendita in tutti gli infopointi delle regioni, in alcune agenzie di viaggi e strutture ricettive e novità di quest'anno anche online sul sito www.turismo FWG.it.